bellissimo vi è piaciuto? è fantastico no no manca qualcosa manca ancora qualcosa che male? speravo di un vostro suggerimento ma così è perfetto no no manca ancora quel tocco di hip hop quel non so che di forza qualche sfumatura un tocco di lui tu sei il migliore nell'hip hop sei l'unico della residenza e mi devi aiutare con la coreografia questi sono a tua disposizione bene questo è il passo che faccio nel finale sono dei movimenti troppo legati manca quel tocco di hip hop si spezzali posso fare tipo ecco lo hai entratto? grazie sei un genio e tu sei un genio Daisy se ti serve chiamami ok? si allora ci vediamo si ci vediamo ti chiamo per fare bravo ci vediamo Daisy l'unico commento che posso fare è che non aspetto altro che vedere il tutorial per imparare tutti questi passi no 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 manca ancora qualcosa manca qualcosa ragazzi questo sarà il primo video sul mio canale deve essere extra mega perfetto da urlo scusa magari potresti ci sono ci sono farò una collaborazione con John questa sì che è una buona idea quindi il canale si chiamerà Daisy il cavaliere ballerino? non si chiamerà così Pietro invece sì hai deciso di fargli fare il video preferisci che lo faccia da sola? nel canale tuo decidi quello che vuoi io dico che è meglio se lo fai da sola per non far confondere la gente mmm